Sono due sorelline, due femmine, sono arrivate da un paio di settimane al canile, erano quattro, c'era un'altra sorella e un maschietto che sono stati adottati e niente, cercano casa. Erano stretti l'uno all'altro sotto la pioggia fuori dal cancello del canile comunale di Arezzo gestito dall'EMPA. Erano quattro cuccioli, tre femmine ed un maschio, due di loro hanno già trovato una famiglia, adesso a cercarla sono Mara e Melodi. Allora, loro sono state abbandonate davanti al cancello del canile e una mattina quando siamo arrivati, tra l'altro pioveva tantissimo, erano fragice, impaurite e le abbiamo prese e curate. Diventeranno una taglia media, circa 15-20 chili. Quando sono state trovate avevano una forte di arrea emorragica dovuta ai parassiti, avevano i coccidi e le abbiamo curate, sono guarite. Oggi stanno bene e cercano una famiglia, sono adatte ovviamente a tutti i tipi di famiglia. Sì, sono adatte a tutti i tipi di famiglia. Sono cagnoline inizialmente un po' timide con le persone, anche un po' paurose, però poi una volta che conoscono si abituano. Quindi sarebbe meglio una famiglia che avesse magari un po' di giardino, così è anche più facile abituarla a uscire all'esterno.